del tutto inediti, del tutto da esplorare, quindi siamo arrivati un pochino avanti con le puntate, volevo un attimo dare un piccolo punto della situazione, questa è la puntata numero 30, quindi siamo arrivati alla trentesima, la volta scorsa abbiamo visto, si è parlato di giustizia divina, si è parlato del fatto che non è possibile la glorificazione dell'uomo prima di aver soddisfatto alla giustizia divina, questo è un tema ricorrente, tenere l'amata decisamente sfata e smonta il mito del Dio Bonaccione, assolutamente, pur mostrando in tutta la sua opera come l'essenza divina, che poi è mossa come sappiamo dalla sua volontà, sia l'amore, ma è un amore che non diventa mai quella che qualcuno chiama carità pelosa o come dire buonismo che accetta di farsi irridere, prendere in giro o calpestare impunemente dalle povere creature quali noi siamo, insomma, no? Ecco, quindi abbiamo visto che quanti santi parlavano anche il buon padre Pio, quando uno la faceva grosso, diceva, ah questa la paghi cara, ecco, non è che parlavano tanto per dire oppure per metafore o per iperboli, quindi la giustizia di Dio esiste. Comunque, oggi spiega poi anche tutto quanto il senso del castigo, della purificazione, eccetera, no? Allora, e ci siamo lasciati la volta scorsa, abbiamo fatto la conclusione ecco alla serie tv con Suspense, perché l'ultimo capoverso che abbiamo letto era appunto, dice, a riguardo sto chiamando un tuo amico di infanzia, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te, oggi compare un nuovo personaggio, no? Ecco, dopo che te l'era amata appunto aveva spiegato, dice che di conseguenza tutti quelli che hanno accumulato nel corso della vita terreno una montagna di scorie, ecco, di spazi tempi sballati e di cose da riparare che non hanno fatto, concludeva così, diceva, hanno bisogno di subire il giusto castigo per pensare i loro peccati, quindi ho già detto di fidate da non pochi anche tra i ministri che dicono, ah Dio non castiga, ma questo lo sono inventati adesso nella congerie di invenzioni e stranezze che pullulano ai nostri tempi, insomma, ma la Chiesa non ha mai creduto, non ha mai insegnato cose di questo genere, quindi hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati, ormai perdonati riguardo alla colpa e alla pena eterna, hanno bisogno di rettificare la loro indifferenza terrena verso le cose del cielo e di trovare il proprio posto preciso nella patria, hanno bisogno di imparare le abitudini celesti e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato non solo in soldi, ma anche in tante altre cose, onore, stima, rispetto, buona fama, eccetera, no? Va bene. A riguardo sto chiamando un tuo amico defunto, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo perché parli con te e andiamo a conoscere Maurizio. Infatti all'improvviso si avvicinano a noi Maurizio, un mio compagno della scuola elementare. Si presentò nella sua face biologica di bambino e non notai in lui nessun segno di clodificazione. A quel tempo era un ragazzino della mia età, più alto e più robusto di me, e che si burlava di me continuamente, quindi lo sentivo come un calcio allo stomaco. Ignoravo che le antipatie sono dovute all'opacità dei vincoli di amicizia programmati in anticipo dal creatore per unificare i suoi figli adotti umani. Meravigliosi vincoli reciproci di attattiva e complementarietà che a volte quasi si cancellano in questa vita a causa del peccato. Capito che sta dicendo, per esempio, qui che la condizione di disastrata, d'accordo, di viatori segnati dal peccato originale, dalla concupiscenza, dall'età, da tutto quello che vogliamo, è capace addirittura di cancellare i vincoli di amicizia programmati in anticipo dal creatore, addirittura trasformarli in antipatie. Che brutta cosa viviamo qui in questo mondo. Ok, molto dopo veni a sapere che l'origine del sorridere non ero io, ma un birbesco tic nervoso che gli contraeva periodicamente i muscoli facciari sinistri, disegnandogli un insopportabile sorriso sarcastico. E siccome non mi potevo permettere di fare appugni con lui apertamente, tramai un piccolo intrigo, approfittandomi della maestra, feci in modo che a lui dessero la colpa di aver rubato una matita bicolore a cui teneva la maestra e che avevo preso io. Fu severamente castigato. Ed io mi burlai del sorridere per un po' di tempo. Maurizio mi salutò abitualmente. No, scusate, Maurizio mi salutò amabilmente e incominciò a ridere, ma non con l'antico riso burlesco, ma con allegri e amichevoli risate. Perdonami Maurizio, ti prego, gli supplicai contrito. Ma sicuro, e non ti preoccupare per quello che accade nella scuola. Preoccupati invece del modo come dovrai soddisfarmi nella gloria eterna. Ma via non soffrire, disse notando la mia agitazione, io ti aiuterò nella patria. E scomparve, fine della visita di Maurizio, come era venuto. E qui Riccardo adesso, come dice, stringi un po', dicono a Roma. Dice, e adesso che devo fare teneva la maestra? Dissi con preoccupazione. Cerca di accrescere il tuo grado di gloria, gli risponde. Ti ho già detto che se riesci ad essere cristiano migliore, godrai di più in cielo e accrescerai la felicità di tutti i tuoi fratelli in beatitudine. Nella patria brillano in tutto il loro fulgore i vincoli di attrattiva amorosa, di complementarietà, di amicizia, di simpatia, stabiliti dal Signore e dalla sua eternità assoluta, eternità assoluta, la nostra creata, la sua è l'assoluta, fra tutti i beati e tra questi tutta la creazione. Tuttavia le conseguenze delle antipatie non vinte su questa terra, attenzione a chi va a antipatie, a chi non si vince, sono la diminuzione di gloria nel cielo e la riparazione verso i glorificati e offesi in questo mondo. Ecco quello che gli ha detto l'Altissimo è molto amorevole, ma terribile nel fare giustizia. Allora vi do questa notizia preoccupante. Se c'è qualcuno che ci sta, come si dice a Roma, chi vede il video adesso dopo qui, ok, per chi ascolterà il podcast ho mimato il gesto di mettere il dito alla cura, quindi che te sta sul gargarozzo, perché questo si può dire, ci sono anche delle espressioni molto triviali per esprimere l'antipatia che ovviamente non sono consone né a quest'ambiente né tantomeno a bocca, lingua e stile sacerdotale. Se una persona ti sta fortemente antipatica, di quell'antipatia magari alimentata e motivata da qualche passioncella, consiglio vivissimo vincerla in questa terra, perché se non la vinci in questa terra, e guardate che oggi, chi oggi acquisisce questa informazione, poi non ci avrà scuse davanti all'Altissimo. Teneramata dice, se non vinci su questa terra, avrai una diminuzione di gloria nel cielo, uno, vale la pena diminuire di gloria nel cielo per un'antipatia non vinta? E dovrai riparare, perché attenzione, quando una persona ci sta antipatica, proviamo un attimo a pensare al contrario, cioè tu ti accorgi quando stai antipatico a qualcuno? Vediamo. Te ne accorgi o no? Te ne accorgi. È bello avvertire l'antipatia del prossimo? Non è una cosa che ci fa soffrire, ci mette a disagio. A volte ci fa soffrire anche abbastanza, specialmente quando le antipatie, come dire, non nascono tra persone che fondamentalmente sono distanti o estranee, no? Ma nascono da persone che sono a diverso titolo, vicine. Pensate, perché io faccio il parroco, alle classiche antipatie intraparrocchiali, specialmente tra collaboratori del parroco? Perché c'è sempre, come dire, la tentazione neanche troppo nascosta del voler essere, come dire, il top, cioè il prediletto del parroco o la prediletta del parroco. Eh, quindi con questo nascono e si possono alimentare. L'antipatia è tutto gratuito. Eh, e dici, ma io che ci posso fare? Questo meno lo vedo e meglio sto, mi sta antipatico. Il nostro signore dice attraverso di una ramata, non ti crogiolare su questa cosa, perché l'antipatia la devi vincere. Cioè noi non siamo degli automi che andiamo dietro necessariamente alle nostre passioni e passioncelle e non ci possiamo fare niente. Non è vero affatto che non ci possiamo fare niente. Tu l'antipatia la prendi e la vinci, combatti, non la secondi. Se una persona di vista antipatica, questa è una norma tipica dell'ascetica, moltiplica le tue gentilezze. Capito? C'erano alcuni santi che capivano che, cioè alcuni, no, alcuni destinatari di comportamenti dei santi che capivano che a quello gli stavano, che a quel santo gli stavano antipatici, perché quel santo li riempiva di gentilezze, di cose belle. Allora, se ho fatto queste cose qua, se vedi io sto antipatico, perché si vuole vincere. L'hanno fatto i santi. Altrimenti, ripeto, così focalizziamo e memorizziamo, diminuzione di gloria nel cielo e riparazione verso i glorificati offesi in questo mondo. E dopo lo spiega, riparazione in cielo e negli spazi e tempi dove tu hai esercitato tutti quanti gli atti di antipatia, quella persona li ha capiti e a causa della tua antipatia è stata male. Perché le persone stanno male a causa nostra. Adesso sentiamo. Ti racconto un altro aneddoto mio, così comincerei a comprendere che, come piccola parte della gloria celeste, che avrai meritato con le tue opere di amore e di carità sulla terra, il nostro Dio farà che nel preciso spazio-tempo del passato, in cui hai vinto una tentazione, oppure hai sofferto qualche delusione, povertà, malattia o tripolazione, attenzione, per amore a nostro Signore, proprio lì, nell'atto della tua esistenza, conservato nel perenne magazzino di tutti gli esseri o quinta dimensione, ormai sappiamo di che si tratta e non li spiego per la cinquecentesima volta, tu riceva pienamente e obiettivamente la consolazione divina che hai desiderato, la lode che cancellerà l'offesa alla tua dignità di figlio adottivo del Creatore e il contraccambio amoroso o amichevole che ti ha rifiutato l'incomprensione umana sulla terra. E sentite quello che racconta. Appena sposata passai col mio sposo una difficile situazione economica. In una grave circostanza chiesi in prestito ad una nota strozzina della città di San Luis, chiesi un prestito, le farò avere il denaro che chiede, mi avvisò l'usuraia, ma al 5% di interesse ogni mese. Ho il permesso del vescovo per prestare al 2%, ma siccome sono una povera vedo, ho molte spese, dico va bene, va bene, rispose, prende i gioielli di mia madre e mi dica dove devo firmare. Naturalmente non mi dite nessuna ricevuta. Passarono i mesi e potevi pagare appena gli interessi. Quando mio marito trovò un lavoro migliore andai per restituire il denaro. E questa gli dice soltanto mi deve la metà di quello che le diedi mi dispose, perché il resto è già stato pagato con la vendita che ho fatto dei suoi gioielli. Immaginai che non avrebbe potuto pagarmi e rimisi all'asta. Capito? Lo sgomento mi prese dinanzi a una tale ingiustizia e siccome ero gravita del mio secondo figlio, svenni dal dispiacere. La usuraia mi tolse tutto il denaro e mi trascinò fino alla strada. Dopo che entrai nella beatitudine, il nostro Dio mi chiese di glorificare il mio corpo di quell'occasione, in casa della usuraia e precisamente negli spazi e tempi terreni nei quali fui offesa da lei. Già sai che questo si può fare facilmente nel cielo, perché l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'ambito della quinta dimensione o eternità creata. Questo non dimentichiamolo mai. Questa è la grande rivelazione di questi iscritti. Che l'organismo totale dell'essere umano continua vivo nell'eternità creata. Quindi il nostro corpo noi non lo abbandoniamo mai completamente. Abbandoniamo completamente solo il nostro cadavere. Questo poi ne riparlerà ancora prima della fine. mi perdoni, mi perdoni signora, mi supplicava l'usuraio con quel profondo dolore e tristezza del purgatorio che io ben conoscevo perché ne ero appena uscita. Nostro Dio mi suggerì, oltre che a perdonarla, di prometterle la mia amicizia nel cielo. Feci così e alleviai in parte la terribile purificazione. Dico lei che oggi è una mia amica nella beatitudine. Capito? Terribile purificazione per questa partaccia. E in paradiso diventate amiche. Il Signore mi fece vedere che lui permise quella ingiuria che ricevetti, attenzione anche a questo per aiutarmi a collaborare con i suoi disegni. Anche qui amici cari, noi non possiamo, anche senza conoscere la divina volontà, perché questo basta anche la scetica classica, cioè quando succede qualcuno ci tratta male, partacce, calunnie, diffamazioni, oltraggi, disprezzi, noi non possiamo come discepoli di Gesù reagire da uomini. Quindi prendercela e basta. È chiaro che è una cosa che ti fa male, una ferita ti arriva. Ma oltre che a risentirti, tu devi fare l'atto di fede dove si dice vabbè, ha sbagliato. Tanto in questo mondo lo perdono. Poi tanto, vedete che succede? I conti si faranno. Però questa cosa Dio l'ha permessa. Per i suoi disegni vuole che in questo momento io soffra questa cosa, ma del resto, questo lo insegnava già chiarissimamente, Sant'Alfonso, Maria degli Cuori, per questo che non ci serve nemmeno la divina volontà per chi la conosce, per capire questa cosa, perché Sant'Alfonso diceva testualmente, ricorda che se una persona ti insulta, Dio non vuole che ti insulti, Dio proibisce di insultare il prossimo e per quell'insulto quella persona pagherà. Esattamente quello che leggiamo qui. Però Dio non vuole l'insulto, ma vuole che tu subisca quell'insulto. Tu dici, come fa? Fagli una telefonata alla Santissima Trinità. Questa è una cosa che Dio sa fare e può fare. Quindi è il male permesso perché in quel momento e per i suoi disegni, se tu lo accetti, se tu lo offri, tu puoi fare tanto del bene con quel male lì. Lo diceva già Sant'Alfonso, Maria degli Cuori, 200 e passa abbondanti anni fa. Quindi, ora riprendo. La cosa più straordinaria è che in piena strada, nel luogo dove rinveni dal mio svenimento e soffri la tribolazione di aver perduto i gioielli e il denaro, quindi nel luogo stesso in cui si è ripresa dall'essere svenuta e si è accorta che ci aveva più né i gioielli, né i soldi perché gli aveva fregati tutti quanti l'usuraia, decine di glorificati e tra i più importanti domandavano al nostro Dio il privilegio di essere i primi a darmi soddisfazione al dilettevole modo celeste con la loro immensa gloria. Capito? Ha subito una cosa bruttissima e ingiusta, quella chiede perdono, la supplica con quel profondo dolore e tristezza e in riparazione di questa cosa qui, quindi in compensazione, i glorificati decine dei più alti vanno a dilettarla al modo celeste come riparazione, con la loro immensa gloria. Vedete, l'Onnipotente scrive il destino volontario e libero dell'uomo con righe dritte che in questo mondo sembrano storte. Si deve cambiare un pochino il proverbio, perché il proverbio dice che Dio scrive dritto sulle righe storte. No, no, Dio scrive dritto non sulle righe storte, ma su righe che in questo mondo sembrano storte, ma non lo sono. E invece adesso ti racconto un altro fatto mio nel quale io sono stata villana, la villana. In esso vedrai come determinate mancanze in questa vita, morali di questa vita, si tramutano in gloria accidentale, una volta raggiunto il perdono divino. Quando io ero giovane in questo mondo, una volta mi arrabbiai con un modesto camionista, perché ebbe l'ardire di rivolgermi un complimento nel suo rustico gergo popolano. La mia vanità non mi lasciò vedere il sentimento pulito che il povero uomo mi esprimeva con parole rozze. Mi infuriai eccessivamente, lo umiliai pubblicamente e un educato signore l'ho presa a schiaffi per il delitto di aver offeso la mia orgogliosa e stupida vanità. Ebbene, trovai il mio presunto offensore, presunto perché in realtà non l'avevo offesa, vedete qua a essere permalosi, a offendersi anche quando non c'è niente che realmente era offesa, non capire che questo poveraccio era un grezzo, magari gli avrà detto una cosa in maniera grossolana, questo si offende, ma non glielo ha detto per offendere, glielo ha detto perché quello è un grezzo, era grezzo, era rozzo, noi dobbiamo anche imparare a tarare le cose che ci vengono dette, ma da chi ci viene detto? Io sto in un ambiente che su questo ti fa proprio scuola, ma già in un ambiente di un paesino, sperduto, sui Monti Repini, dove a livello culturale, io conosco un laureato in tutto il paese, uno, uno, ma adesso la laurea insomma non è, ma c'è chi, adesso non voglio essere, non sa ne parlare e sta se zitto, cioè se scrive, se scrive qualche cosa su un messaggio o su un social, cioè fai gli orrori di ortografia, capite? Allora tu non puoi interpretare, prendere e leggere un comportamento, per esempio villano, che ti viene da un ambiente del genere, come se ti venisse da un altro ambiente, perché è sempre villano è, ma che ti vuoi aspettare da questa base, come dire, povera da un punto di vista umano? Ti devi stupire se non fosse così, cioè questa intelligenza noi dobbiamo impararla amici cari, se venisse da un altro ambiente, che ne so, da un ambiente, come dire, umanamente più raffinato, più colto, che ne so, allora sì che sarebbe un pochino più grave, no? Allora, ebbene, trovai il mio presunto offensore nel cielo e quale momento critico passai al modo dell'aldilà per avere la sua benevolenza? Ah, passato un momento critico per avere la sua benevolenza. È un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria, un grezzo e un ignorante. Capite come essere grezzi o ignoranti davanti a Dio non conta proprio niente. Se l'anima è bella, se l'anima è santa, se le intenzioni sono lette, sono buone, puoi diventare un grande beato che mi supera enormemente in dignità di gloria. Soffrì nella patria come diminuzione di felicità, lei spiega, ma senza pena né dolore nel comprendere che il suo pittoresco complimento non era mancanza di rispetto, ma soltanto volermi dire bella nel suo gergo di autista. Sarebbe meglio smascherare le permalosità in questa vita, secondo me, sarebbe più saggio. Sapete che la permalosità è un termine femminile e generalmente affligge maggiormente le femminucce, anche se non mi è mancato di conoscere maschietti che sono più permalosi della peggiore delle femminucce permalose. A dirla proprio tutta. Risponde Riccardo, neanche io mi sarei trattenuto dal farti un complimento. Riccardo, sentite che risponde, con la mia esperienza di adesso accetto le parole galanti con gusto e gratitudine, senza provare vanità né fastidio. Ah, guardate figli coi miei cari, è che ci sta da divertirsi a volte un pochino con noi stessi. Prova a pensarci. Come reagisci tu a una parola galante? L'accetti? Provi imbarazzo? Provi fastidio? Oppure diventi un palloncino gonfiato? Cadi nella vanità? E' bene ogni tanto ci facciamo qualche screening, non facciamo sempre le confessioni con le solite cose, no? Ma andare un po' ogni tanto a sfrucugliare quello che si muove dentro, no? Quello che si agita dentro. Andarci a vedere in tante situazioni, no? Le nostre reazioni. Questo è molto difficile, amici miei cari, anche perché ci vuole sempre un pochino di tempo e anche un pochino di calma per fare queste operazioni un po' spirituali. Quindi siccome, almeno per quanto mi riguarda, tempo e la calma, calma sì, ma calma non soltanto calma interiore, calma proprio intesa come tempo calmo, d'accordo? Senza orologio che qua, senza che tra poco cominci la diretta. E' importante però. Ma da quel contrattempo terreno, il mio ammiratore risultò vincitore nel cielo, perché si guadagnò il mio amore, rispetto e lode di gloria. Capite? Quindi siccome l'aveva trattato male, e quindi la ricompensa era che appunto per dovergli dare poi riparazione è paradossalmente diventata amorevole, rispettosa e gli ha tributato gloria nell'altra vita. Ed io pure, sebbene in proporzione minore, attenzione, già che non lascia di dispiacermi, naturalmente al modo celeste, il mio comportamento vanitoso sulla terra. Non basta di dispiacermi al modo celeste, vuol dire, ha detto prima, diminuzione di felicità ma senza pena né dolore. Non lascia di dispiacermi il mio comportamento vanitoso mentre egli mi onora quella sua generosa amicizia. Cioè, quello gli sta dando la generosa amicizia e lei ripensa, dice, ma, però con lui c'è stato una gran cafona. Oh, ecco che poi concludisci. Pertanto hai adesso in mano magnifiche occasioni di fare guadagni favolosi nella patria. Sfruttiamole, perché il motivo per cui stiamo a leggere queste cose è adesso ci abbiamo tempo. Dopo, vedete, dopo sono riparazioni, sono castighi. Perché? Fammo un mono. E acquistare moltissimi amici. Se impari a soffrire, scriviamocelo sul letto, le ingiustizie e le umiliazioni con paziente amore di carità. Fa molta attenzione nel tratto con i tuoi prossimi. Il tratto. Volti vediamo. Di glorificazione non ne sappiamo. Così vi è il tratto. Qui, tante volte io ne ho parlato, ma ogni tanto dovrei fare esame di coscienza su me stesso. Il tratto vuol dire, da tratto viene trattare, no? Come trattiamo le persone. Il tratto non è solo quello che dici. Ci sono persone, ma tutte quante, cioè noi comunichiamo al 90% senza le parole. la mimica, lo sguardo, abbassare un occhio, fare uno sguardo storto, cioè sono cose che non ci facciamo caso, nessuno ci fa caso. Io non voglio, difficilmente ti capita di sentire quando un penitente si accusa a quello l'ho ferito con lo sguardo, gli ho dato un'occhiataccia e sicuramente l'ho mortificato. E non solo sicuramente l'ho mortificato. Ma volevo mortificarlo, perché gli ho fatto quello sguardo, perché lui lo notasse e si sentisse mortificato. Questo è peccato, amici miei. Ma è rarissimissimissimo che una coscienza aggiunga a questa lucidità. Il tratto. L'amorevolezza del tratto. Se una persona percepisce che tu stai scocciato, che la sopporti a male in cuore, occasioni perse, facciamo la canzoncina dei De Sanno, le opportunità che ho perso, occasioni perse e guai che poi arriveranno, perché la giustizia del Signore, oggi l'hai detto un'altra volta, la giustizia del Signore è rigorosa, quindi non è severa. L'Altissimo è molto amorevole, ma è terribile nel fare giustizia. L'ha detto a proposito dell'antipatie, non vinte. Quindi l'idea corretta di Dio è che è molto amorevole, ma è anche terribile nel fare giustizia. Una sola di queste due falsa la corretta idea di Dio, perché lo trasformi in un bonaccione, che non è, o in un giustiziere, che non è. Tenera amata, permettimi una digressione, ma esistono emozioni e passioni nella celeste e beatitudini. Domani. Secondo voi? Se uno conoscesse un pochino di San Tommaso, risponderebbe, facciamo così, rispondo in latino, ne abbiamo già parlato durante questo ciclo di catechesi, credo. Grazia supponit naturam ac perfisit, si dice in latino. Gloria supponit graziam et naturam ac perfisit. Traduco. La grazia, noi abbiamo tre livelli di vita. Il livello naturale, io sono un uomo. Il livello di grazia, io sono un cristiano, un battezzato. E il livello di gloria, io sono un beato. Non adesso, d'accordo? Ecco, questi tre gradi non stanno, come dire, su piani, faccio il video, faccio vedere in video, uno sta qui, uno sta qui, e uno sta qui. No, stanno, uno sta qui, uno sta qui, e l'altro sta qui. Cioè, si presuppongono l'uno con l'altro, cioè, la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione. che significa? Significa che, perché tu diventi santo, è necessario che tutto il meglio di te sia elevato, quindi sublimato dalla grazia, e tutto il peggio di te, con l'aiuto della grazia, sia eliminato. E chi è che diventa beato? È l'uomo e la donna che hanno fatto questo lavoro di santificazione con la grazia che sviluppa e porta a perfezione i talenti naturali, le doti che hai, ti permette di smussare o eliminare i difetti e i vizi, e poi arriva la gloria. Adesso, con questo background, rispondiamo alla domanda di, o meglio, sentiamo Teneramata che risponde alla domanda di Riccardo. Esistono emozioni e passione nella beatitudine? La risposta, a questo punto, dovrebbe essere già chiara, in base a quanto detto. Naturalmente, noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo. Il beato non è che diventa un marziano, è un umano. Ce l'hai tu i sentimenti? Ce l'hai tu l'amore? L'odio? L'ira? Il desiderio? Sono passioni queste qui. E pensi che in cielo non ce l'hai? Il piacere? Il dolore? Tutte passioni queste sono, già dai tempi di Aristotele. Noi beati continuiamo ad essere umani nel cielo e continuano a vivere il nostro organismo integrale. la glorificazione ci perfeziona ma non cambia l'essenza della nostra natura. Chiaro, no? Quindi noi sentiamo le emozioni e le passioni di questo mondo. Attenzione, la sola differenza è che la nostra squisita e purissima sensibilità ce le fa vivere intensamente. ovviamente sentiamo l'amore in tutta la sua pianezza. Sapevate che l'amore è una passione anzitutto. Non è una passione soltanto che, secondo il gergo comune, mi sono acceso, mi ha preso la passione per quel tizio. No, no, la passione è proprio in psicologia e antropologia classica, amore e odio sono le prime due passioni della parte concupiscibile della nostra anima inferiore, dice Santo Ammaso. Desiderio e concupiscenza sono quelle che vengono dopo. Desiderio e ripugnanza, scusate. Concupiscenza è sinonimo di desiderio. Quindi l'amore. La gioia. La gioia è una passione. Perché? Perché tu provi... Che cosa significa passione? Passione è una reazione che tu provi dinanzi a qualche cosa, no? Tu senti l'amore quando? Quando compare un oggetto amato. Senti la gioia quando? Quando compare un evento gradevole. Ecco perché si chiamano passioni. Pasco in greco significa soffrire. Soffrire non nel senso di sofferenza, ma subire. Quindi ricevere un'impressione da. La gioia in tutte le sue forme. Il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra. Quante volte gli ha detto non ti posso dire questa cosa perché moriresti di piacere. Attenzione, ricordiamo sempre che non si parla di questa cosa, eh? Eppure i piaceri sessuali in cielo non esistono. Che sulla terra sono i più violenti e i più intensi. Non dimentichiamolo mai questo. In cielo non esistono. Quindi questi sono per tutti quanti i fautori di quelli che che hanno o l'idolo della sessualità o che in qualche modo cercano di volerla a tutti i costi riabilitare. In cielo non esiste. Il piacere fino a gradi che sono inconcepibili sulla terra. Il desiderio con tutta la sua vehemenza. Attenzione, adesso qui qualcuno si scandalizzerà. Ma siamo pure capaci di sentire orientati come è dovuto l'odio, il timore e l'ira. Le tre passioni che in questo mondo dobbiamo stare molto attenti. Perché quasi sempre quando le esercitiamo facciamo peccato. È molto spesso mortale. Perché l'odio in questo mondo noi possiamo esercitarlo soltanto nei confronti del peccato, eh? E eventualmente dei demoni. Senza però esprimerlo perché l'odio poi cioè noi i demoni non dobbiamo mai sfidarli o andarli a sfrugugliare. dobbiamo starne alla larga. Però finito questo. L'odio è finito in questo mondo, eh? Non possiamo esercitare questa passione. Dobbiamo reprimerla. L'ira Passione pericolosissima. D'accordo? Pericolosissima. Perché con l'ira si fanno la caterva dei peccati. Il timore dipende. La paura la paura la paura va vinta. Ricordiamo tante cose recentemente vissuti e come la paura ha indotto le persone a fare di tutto e di più. A fare pazzie. Allora lui ribatte. Vuol dire che nel cielo si soffre? Ma la risposta ma no! No! là non esiste la minima sofferenza nella più piccola contrarietà. Sentiamo le passioni e le emozioni ma senza nessun dolore. È chiaro che nello sperimentarle i riflessi psicomotori che continuano ad essere umano ad essere umano e funzionano a perfezione ci fanno venire le lacrime. impallidire quando uno si spaventa no? Impallidisce o arrossire quando uno prova un po' di vergogna alterare il tono della voce noi alteriamo il tono della voce quando ci arrabbiamo un po' e persino tremare le ginocchia ma questo sì non sentiamo la minima pena perché nella patria celeste non esiste nessuna insicurezza né angoscia. Domanda di Riccardo Hai sentito l'ira in cielo? Sentite la risposta Sì, certo La sento quando vedo nell'aldilà i miei cari sulla terra che commettono qualche mancanza grave Quando commettiamo qualche mancanza grave da stasera sappiamo che facciamo arrabbiare un po' i nostri cari che ci guardano dal cielo L'ha detto tenera amata? Non l'ho detto io liberissimi ovviamente di non credere a tenera amata perché su questo presupposto abbiamo cominciato tutte le nostre conversazioni e questi non sono dogmi di fede Questo circo di catechesi è il circo di catechesi chiamiamolo mistico d'accordo? Quindi su cui siamo perfettamente liberi d'accordo? Ovviamente esprimendo le nostre opinioni in certi termini capite? Perché ecco sia i messaggi troppo entusiasti che quelli troppo io ho visto insomma in giro sono pervenute considerazioni cioè a cui evidentemente io non risponderò mai ma insomma preferisco tacerle insomma da parte di persone che forse non stanno tanto bene con 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 la testa vabbè comunque non vorresti ammonirli o correggerli dice i tuoi dice Terenamata a riguardo i miei nipoti mi danno molti dispiaceri in cielo e Riccardo dice ma non vorresti animarli o correggerli si moltissimo ma non è facile ottenere il permesso divino non è facile quando c'è qualche comunicazione di qualche anima e vi assicuro che ci sono da parte dell'altro mondo è un mezzo miracolo che quest'anima ottenga il permesso di poterlo fare perché non viene concesso facilmente grazie grazie signore esclamai nel mio interno adesso sentite quello che dice che vi ho già parlato per aver permesso questa meravigliosa conversazione per il mio bene spirituale tra una delle tue belle glorificate e uno dei tuoi poveri peccatori mondani queste sono considerazioni di Riccardo ringrazio il signore questa è una conversazione veramente edificante tenera amata hai sentito l'odio nel cielo domanda secondo voi sì anche odio tutti i reprobi dell'inferno allora dobbiamo solo avere un po' di pazienza perché i demoni e soprattutto i dannati quando saranno dannati saranno oggetto di odio infinito da parte nostra e sentite che cosa dice e se si trovasse lì qualche tuo parente lo diresti lo stesso vuoi sapere la risposta ci stanno alcuni e li odio lo stesso o di più ti faccio un esempio perché mi comprenda che cosa sentiresti se qualche tuo parente per una cattiveria mi straziasse il volto e mi strappasse gli occhi risponde Riccardo lo ammazzerei anche se in un primo momento lo odiassi subito dopo te ne pentiresti come dovrebbe fare ogni buon cristiano avviatore ma il primo impulso sarebbe l'odio attenzione come dovrebbe fare ogni buon cristiano avviatore qui dobbiamo stare attenti però delle volte l'odio ci parte e dobbiamo reprimerlo qui perché tu non sai se c'è davanti un'anima dannata non lo possiamo sapere in questo mondo orbene il reprobo quindi chi è dannato ha offeso il nostro dio colui che sarà il tuo amore supremo ancora più gravemente perché straziarmi la faccia e strapparmi gli occhi è cosa da poco in confronto con l'offesa che riceve l'amore dell'altissimo da parte del peccatore impenitente e dannato e dopo aver odiato così non te ne penti essendo tu una cristiana glorificata no perché in cielo non sono più in vigore i comandamenti terreni del Signore capite lo scarto che c'è e nessuno si stupisca di questo noi beati siamo impeccabili non abbiamo bisogno di leggi morali la legge in paradiso non c'è più perché c'è la fusione perpetua con la volontà divina come spiega Sant'Omaso il glorificato ipso facto appena vede Dio diventa impeccabile subito ecco perché nel giudizio particolare l'ho spiegato nella Catechesi dei Novissimi non si vede Dio con il lume di gloria perché se tu vedi Dio con la visione beatifica appena lo vedi immediatamente sei beato e impeccabile subito il fatto è che sulla terra l'odio è cattivo perché allontana dal creatore ma in cielo l'odio ben orientato cioè si odiano coloro che sono degni di odio e tu in cielo lo sai con certezza chi sono quelli che sono degni di odio ci rende solidari con lui perché Dio ai dannati li odia che è chiaro dunque in questa vita l'odio è sempre mal indirizzato ve l'ho già detto io non proprio qui ci sono pure certi tipi di odio ben indirizzato e legittimo tu dovresti odiare il peccato per esempio il peccato possiamo odiarlo il peccato però non il peccatore e sentire pure l'ira contro la tua concupiscenza si arrabbiate e prendi i provvedimenti soprattutto l'ira contro la tua concupiscenza oppure l'ira per dominare le tue le cattive passioni mi chiede una cattiva passione mo te faccio vede io penitenza castigo te lo dai da solo arrabbiate un po' quella fa bene lo stesso lo stesso dico del timore timore di che cosa abbiamo paura lei dice dovresti nutrire la paura di perdere per sempre la futura abbiatitudine oppure se volete di addio che c'è paura di non fare di uscire anche tanto così dalla sua volontà e non solo a dirglielo cerca di pensarlo questo è un ottimo modo per indirizzare la passione della della paura quindi capite qui le nostre passioni hanno un ambito specialmente queste negative ha parlato della dell'odio dell'ira e della la paura sono tre passioni negative queste qui odio ira e paura ma se preferisci ritorniamo sul tema del purgatorio a chi è stato beccatore non è possibile godere il cielo senza una previa purificazione sia volontaria durante la vita sia forzata dopo la morte stiamo in quaresima ancora figlioli miei cari che ci sta a fare la quaresima ogni anno la vita sul pianeta terra è una lunga quaresima quello che vivremo tra poco nel tempo di pasqua è una rappresentazione è un prodromo è un anticipo del paradiso ma sul pianeta terra noi stiamo vivendo i nostri lunghi 40 giorni di quaresima lunghi e che se fa in quaresima se prega se fa penitenza questo se fa se fanno le opere di misericordia se fanno le lemosine anche cospicue le altre opere di misericordia i digiuni le altre penitenze le preghiere mentali vocali sacramenti confessioni fatte bene per Pasqua questo se fa in quaresima e mi raccomando santificare bene la quaresima perché la quaresima è una grande esercitazione per come si vive la vita terrena non vivrai così buon viaggio in purgatorio fratello mio dove la purificazione è forzata non meritoria e più dolorosa non dimenticarlo mai pertanto attenzione è solo il dolore purifica purificazione volontaria durante la vita e dopo la morte e solo il dolore purifica stiamo alla vigilia della settimana santa noi contempliamo Cristo noi contempliamo e predichiamo Cristo crocifisso il dolore esiste a causa del peccato perché il dolore il peccato lo distrugge nella sua essenza Gesù ha distrutto il peccato soffrendo patendo su di sé e offrendo le sue sofferenze in espiazione dei peccati nostri al Padre così ha distrutto il peccato il dolore che arriva a noi è purificazione solo il dolore purifica pertanto ogni incontro con il nostro Signore Gesù Cristo in questo mondo porta sempre il sigilo del dolore vedete che anche qui uno si legge tenera amata si può fare l'illusione che ah che bello è tutta gioia è tutta gioia è tutta gioia è tutto paradiso dopo ma qui si passa per la valle del pianto come dice come dice un salmo dopo come quelli che pensano che che non è che pensano vaneggiano ah io ho conosciuto la divina volontà adesso parte tutte queste cose qui non serve più niente non mi confesso non faccio sacrifici non faccio digiuni perché tanto c'è la divina volontà è meglio che non commento se no faccio faccio qualche atto che rasenta l'ira non autorizzata però perché non è autorizzata ecco in questo in questo quando quando sento queste cose però c'è una forte tentazione ecco il mistero della redenzione e la testimonianza dei martiri non hanno niente di piacevole gaudio spirituale sì non piacere ma in mezzo appena tribolazioni cioè la felicità in questo mondo non coincide con il piacere in cielo la felicità coincide con il piacere qui no perché qui siamo sotto il regno del peccato e il peccato si purifica col dolore e se il signore ti manda una croce e ti fa un regalo anche se a te non sembra domanda com'è il purgatorio? dice senz'altro il purgatorio non consiste in un campo di concentramento di anime umane rese indipendenti dai loro corpi ti ho detto che l'anima dell'uomo non si separa mai dal suo organismo integrale che è ad essa consustanziale ma soltanto dal cadavere la purificazione dopo la morte si passa in corpo e anima tanta roba questo qui ecco voi sapete che quando non si sapevano queste cose ve lo dico io sapete la sommateologie c'erano gli autori spirituali che c'erano un problema grosso diceva perché nel purgatorio ci sta il fuoco e dice ma se un'anima va nel purgatorio ma un'anima è spirito come fa il fuoco a farla soffrire l'anima e allora cominciano a fare tutta tanto una serie di ipotesi che io anche quando l'ho letto dico non è che ci ho capito un gran che però purgatorio io ci credo che ci sta la chiesa lo insegna va finito ci sta e in qualche modo soffriremo basta ma così è molto molto più semplice la purificazione dopo la morte si passa il corpo ed anima neppure si tratta di una purificazione intensiva e istantanea di tipo angelico perché ciò comporterebbe un cambiamento antropologico essenziale certo non necessario quindi non è una cosa intensiva e istantanea è un tempo l'uomo vive qua e continua a vivere nell'aldilà con la sua natura umana tale e quale gli era data il creatore il purgatorio dunque è un luogo reale e temporale dov'è il purgatorio chiederei chiede lui negli spazi tempi della quinta dimensione i quali conservano gli atti di esistenza di tutta la vita terrena dell'uomo è lì in ogni spazio tempo dove sia necessario che occorre scontare la pena dovuta di quell'atto di esistenza peccaminoso affinché la giustizia divina finisca di annientare tutto quello che è rimasto ancora come debito in quegli atti immorali ormai perdonati in quanto alla colpa e alla pena eterna per questo basta che la coscienza umana si collochi in quegli stati della vita passata che riconosca liberamente la malizia e le funeste conseguenze delle proprie mancanze volontarie e che ripari con dolore ciò che non volle obbedire per amore inoltre non essendo più legata alla coscienza al momento presente del tempo normale della terra l'anima può contemplare in paratempi del passato e del futuro attenzione le conseguenze dei suoi apporti di malvagità al peccato del mondo questo è atroce questo qui si sente un profondo avvilimento per aver sprecato gli spazi e i tempi della vita terrena generosamente concessi dal creatore è quanto mai dolorosa la purificazione dei sensi corporali ecco perché ci stanno le pene del senso nel purgatorio la pena del senso si chiama tecnicamente qua sono proprio i sensi i sensi la vista l'udito il tatto la bocca l'olfatto è tremenda la tristezza per aver collaborato alla diminuzione del grado di gloria di un beato e tu lo vedrai se con il tuo comportamento con quello che hai fatto o che gli hai fatto o che l'hai scandalizzato gli hai diminuito il grado di gloria è spaventoso Dio non voglia quando si è cooperato alla dannazione eterna di qualche prossimo pensa se il purgatorio vedrà che per colpa tua uno si è dannato risulta poi oltremodo penoso osservare la nostra mancata di corrispondenza all'amore divino io adesso faccio un commento non è finito il purgatorio ma finiamo la prossima puntata perché ce ne sta ancora tanto parla ancora parecchio del purgatorio e però dobbiamo fermarci perché qui non si possono come dire fare velocemente queste considerazioni perché il tema è oltremodo importante mi segno un attimo il punto tanto avremo poco da aspettare perché la settimana prossima è la settimana santa quindi la catechesi di Tite Nera Amata sarà mercoledì ovviamente non venerdì santo perché da giovedì in poi si entra in in un'altra dimensione ecco per rimanere in tema no allora capito che succede in un purgatorio inteso in questo modo quindi non un campo di concentramento di anime ma la tua vita andarla a rivedere con gli occhi di Dio quindi capire bene tutto il male che tu hai fatto per poterne provare dolore ripararlo e esserne retribuito a livello di sensi vederne le conseguenze in te sprechi di spazi tempi che avresti potuto utilizzare molto meglio e negli altri diminuzione di gloria altrui dannazione e dolore che hai dato a Dio tutte le volte che hai mancavo di corrispondere al sommore divino insomma amici cari mi sembra abbastanza no? ci aggiorniamo a mercoledì prossimo che staremo in tema perché in tema di settimana santa è certamente bene completare queste considerazioni che sono certamente un pochino dolorose ma quanto mai salutare perché è meglio saperle adesso per evitare di incorrervi dopo quando non potremo farci più niente invece adesso come abbiamo imparato questa sera se impariamo a vincerci un po' e ad essere un pochino intelligenti molto possiamo diminuire o chi lo sa di più breve addirittura quasi annientare a zerare il tempo della sosta di purificazione in purgatoria perché come ha detto tenera amata e concludo o lo farai forzatamente in purgatorio o lo fai volontariamente in questa terra a noi la scelta alla prossima amici Dio vi benedica e la Madonna vi protegga di purgatorio